Ed eccoci in diretta, ben trovati telespettatori per questo nuovo appuntamento di buongiorno. Dottore, allora andiamo subito a vedere i numeri di telefono per interagire, per consentire a voi telespettatori di interagire con noi, 011 0600 774, il numero per le chiamate, 348 80 42 54 per sms e whatsapp, parleremo di chirurgia, plastical maschile peraltro, quindi insomma andiamo un po' a sovvertire quello che dovrebbe essere l'intendimento generale. Comunque presentiamo l'ospite in studio, il dottor Daniele Bollero, chirurgo, buongiorno, buongiorno, chirurgo plastico ma non solo, rigenerativo, ricostruttivo e dunque tutto il, praticamente il 100% di un recupero della nostra pelle. Si parte della pelle, cioè il chirurgo della pelle. Il chirurgo della pelle sarebbe esatto, andrebbe a coniugare tutte le cose che ho fatto. E' un po' questa, la parte esterna del nostro corpo. Dottore, ci stuzzica il titolo, chirurgia plastica al maschile, c'è il boom di richieste da parte del sesso forte? Sì, ne abbiamo parlato prima per trovare un titolo ed effettivamente questo è una nuova modalità perché c'è un grande avvicinamento dei maschietti e quindi l'idea è che anche da casa ognuno può chiedere quello che vuole in completa libertà perché c'è una differenza pazzesca rispetto alle donne, cioè nonostante il fatto che ci sia la richiesta, la richiesta dell'uomo è molto più decisa, un po' più macio anche nella richiesta. E raccontava che proprio mentre stavo venendo qui alla trasmissione ricevo una telefonata di un signore che dice guarda io devo fare la blefroplastica, quindi toglia la pelle sopra gli occhi, non ho tempo, non c'ho voglia, non ho voglia di perdere tempo, così dice, allora io le mando due foto e lei mi fa un prezzo, che torniamo al solito discorso che c'è un'altra volta, prima di tutto il prezzo, senza neanche poter visitare, invece io lo vedo un po' diverso, comunque un prezzo mi dice quando io vengo facciamo un intervento. Allora capite che la rudezza dell'uomo cambia completamente l'approccio perché è lui che si deve di nuovo tornare a capire che questo è un tipo di discorso invece che ha necessito una visita, due chiacchiere anche per parlare di tutto quello che è il post perché poi dopo l'uomo va, no ma io vado a lavorare, vado a lavorare lo stesso, non me ne frega niente, mentre la donna dice, no io fino a quando non sono perfetta non esco di casa, no? E allora è anche molto bello questo perché molti da casa stanno pensando, effettivamente anch'io c'ho un po' di pelle sopra gli occhi, orecchie, un po' di rughe, no? E avrebbero tante curiosità ma non hanno tempo di chiedere, non hanno tempo di fare, ma lo vorrebbero fare, quindi in realtà l'uomo quando arriva in studio è praticamente arriva come una specie di catapulta, è arrivato e dice dai su decidiamo, facciamo, mentre la donna magari prende un po' più il tempo, no? Nella decisione, chiede un pochettino di… perché quando arriva da noi ha già superato tutti i vari step che sono, come dire, va bene, vado a sentire, no vado a sentire, vado già a fare e quindi questo si crea una nuova figura perché in realtà l'uomo come dire si trasforma molto di più in uno che fa i trattamenti, quelli che arriva nei nostri studi, no? E qua il campo è ampissimo perché puoi andare veramente dalla testa ai piedi, perché si parte dai capelli, grandissima richiesta di tutto quello che è intorno ai capelli, no? Dell'uomo e cose di questo genere. Tutti i giorni, adesso 10 giugno finisco questo master che ho fatto in tricologia e tutti i giorni ho questa cosa dell'importanza del capello per l'uomo, no? Per l'uomo, per la donna, per tutti, quindi in realtà la prima richiesta è già questa. Poi si scende le rughe della fronte, poi si fa con la medicina estetica e poi piano piano il corpo, i maschietti dicendo il seno, il fianchetti, quindi in realtà le richieste per quello si può scendere completamente, no? E ci sono diverse, tante storie riguardo a questa vicenda dell'uomo perché io gli faccio sempre parlare e gli faccio sempre chiedere che cosa è che li ha spinti e da lì vengono fuori le storie che poi raccontiamo qua in trasmissione e oggi secondo me qualche d'una magari verrà fuori anche nei nostri collegamenti. Ecco, beh, chissà cosa ha spinto quel suo cliente che insomma era abbastanza sbrigativo nei modi, quindi facciamo così così, magari ci sono delle imposizioni da dietro, chissà le storie quali possono essere. Però, dottore, probabilmente l'approccio sarà diverso perché appunto io vedo già il rapporto tra me e mia moglie, io dico quello finito, basta, non voglio vedere altro, mia moglie sceglie una cosa, questo ma forse quello, forse l'altro, però quella sfumatura cioè non se ne esce più, probabilmente è proprio l'approccio diverso che bisognerà vedere con gli uomini che decisivamente partono e tendono a non cambiare idea. Sì, bravissimo Danilo, cioè ha inquadrato questa esperienza che abbiamo in famiglia, tutti, è riportata in maniera enorme in questo... Ore e ore nei negozi, dottore. Ecco, mentre noi andiamo lì, prendiamo, guarda che bella camicia quella, ok grazie, ci sta la taglia, finito. e quindi in realtà è anche un approccio diverso all'uomo, dove devi, io mi faccio sempre raccontare la storia che l'ha portato a me, perché da quella storia sono io che devo interpretare che qual è la sua, l'arrivo suo, no? Raccontiamo una storia che a me è piaciuta tantissimo, c'era un signor, a un certo punto viene un ragazzo, perché è un ragazzo come me, quindi viene da me e mi dice guarda io non ce la faccio più, voglio togliere queste borse, voglio togli gli occhi, e dice ah sì perché voglio togliere queste borse, effettivamente aveva le borse, ma come tante altre persone che se le tengono, no? Perché io non è che posso andare a battere nella schiena le persone dicendo devi fare la bleforoplastica, no? Quindi io le vedo, dice no, perché io faccio pasticcere, e quindi essendo che la gente sa che faccio pasticcere, tutte le volte mi vedi e dice eh, sarai stanco del tuo lavoro, no? Che ti svegli presto la mattina. Invece io sono tranquillissimo, ma ho le borse. Allora lui chiedeva di togliere le borse per togliersi questa pesantezza, non solo degli occhi, ma anche dei commenti delle persone che associavano la borsa alla stanchezza. Questo è banalmente una cosa di tutti i giorni, no? Se tu c'hai le borse, dici sei stanco, no? Invece quello lì per esempio è un risultato di un paziente che fa la bleforoplastica, che quindi va a togliere le borse e quindi si rinfresca, no? Allora è ovvio che c'è una componente di stanchezza nelle borse, perché c'è del sottotiposo, come anche il grasso, che è che quindi se uno è un po' più stanco c'è un po' più di ritenzione liquida e quindi rimane un pochettino più gonfio. Ma in realtà ci sono delle borse che sono congenite o comunque nel corso degli anni aumentano. E quindi in questo caso l'unico modo è andare a risolvere questa cosa. Vedete anche in questo tipo di pazienti che tipo di... Ah, però non sono borse in questo caso. In questo caso è stato la ptosi per la parte superiore dell'occhio, no? Però vedete comunque che il cambiamento dell'occhio si può ottenere. Quel signore lì che magari non ha richieste estetiche particolari e cose di questo genere a un certo punto dice non ce la faccio più, ho bisogno di quel tipo di trattamento. Quindi in realtà il punto qual è? La curiosità del maschio nei confronti della chirurgia estetica attualmente è altissima, altissima, con una serie di richieste incredibili. Dietro questa cosa sono due situazioni. Una è questa qua che ha fatto vedere la regia dei pazienti con l'età avanzata. L'altra sono i giovani che hanno qualche tipo di malformazione che un pochettino li frega. perché può essere chi ha il seno, la ginecomastia si chiama, no? Quindi io ho un pochettino di seno e quindi arriva l'estate e io non tolgo mai la maglietta. Altra storia che io ho sentito veramente molto spesso, no? Eh no, no, io la maglietta non la tolgo mai. Normalmente sono ragazzi sopra, già maggiorenni, che arrivano sempre accompagnati dalla mamma, che protegge il figlio in questa situazione, che capisce che c'è qualcosa che non va, e con questi ragazzi che si chiudono sempre più in casa, no? Come dire, perché comunque non hanno, cioè, in casa dei termini che comunque fino a quando sei vestito, ma non vai in piscina con gli amici, no? Per via di questo tipo di situazione. E quindi questo è un altro tipo di correzione al maschile che viene molto, molto effettuata. Torniamo al discorso, fotografia, quanto costa e quando lo facciamo, non si può fare anche in questo caso. La ginecomastia è un tipo di trattamento che va valutato caso a caso. Perché questo? Perché ci sono tre tipi di seno maschile. Tipo 1, ginecomastia vera, capita più nei ragazzi, giovani, perché quando c'è ancora eccesso di ghiandola. Questa invece è già il tipo 2, dove troveremo, non lo so perché bisognerebbe fare l'ecografia, ma a occhio è già più grande, quadro doppio con un quadro della ghiandolina, perché sicuramente c'è che spinge, ma anche un po' di ciccia, tessuto di poso. Quindi crea una ginecomastia mista, con un po' di ginecomastia vera e un po' di ginecomastia creata dal grasso. Terzo tipo di caso è la pseudoginecomastia o ginecomastia falsa, dove in realtà il paziente ha solo ciccia, solo tessuto adiposo. L'approccio delle tre patologie, di patologie si tratta in realtà, il sistema sanitario dice che le ultime due sono più estetica che mutua, però comunque dà sempre un quadro che non fa star bene il paziente, quindi si possono assolutamente correggere. L'approccio di questo tipo è sempre il tipo chirurgico, poi parliamo anche dei culturisti che hanno invece un loro problema ancora diverso su questa zona qua. Ed è nel caso delle pseudoginecomastie la liposuzione, cioè andiamo a togliere il grasso, mano in mano dove c'è la ghiandola invece bisognerà fare un taglio dalle tre alle nove per andare ad alzare la ghiandolina, passare sotto e togliere il residuo, per quello che riguarda quei ragazzi invece che avete visto lì culturisti, quando si sviluppa troppo il petto, quella foto era molto bella, se riesci a rimettere un secondo, non so se notate, vediamo un po' se anche da casa notate questa cosa, non quella foto del super palestrato, quella foto del super palestrato, se notate il capezzolo è basso, rispetto a quello che avete visto prima dove il capezzolo stava più in alto, in questo caso otticamente il capezzolo è basso, perché avendo sviluppato lui il pettorale, quel risultato di quella zona lì è tutto pettorale, quindi il capezzolo otticamente sembra che sia bassi, quindi alcuni super culturisti vengono a chiedere di sistemare quella zona del capezzolo che è diventata un pelino più bassa e sproporzionata rispetto alla parte del pettorale, quindi questa è un'altra figura ancora, perché andiamo ad aumentare ancora le possibilità sempre in quella zona lì, alcuni vengono solo per il capezzolo, quindi non è più giriocomastia, non è più pseudogiriocomastia, non è più giriocomastia falsa, ma ho il capezzolo che cambia, che protrude a seconda anche delle situazioni. Questo deriva, l'ipertrofia del capezzolo si chiamano, questo deriva da un sistema nervoso che si chiama simpatico, che tanto simpatico di nuovo non è come abbiamo già visto in altre situazioni, che va a dare un capezzolo molto più grande in determinati tipi di situazioni non controllate e allora anche in questo caso si possono fare piccoli interventi chirurgici per sistemare il capezzolo. Ho recentemente fatto un ragazzo dove abbiamo fatto tutto un quadro insieme che era la giriocomastia mista più il capezzolo con un risultato veramente molto molto buono, però alternativa alla chirurgia in questo caso non c'è. E quindi insomma si amplia davvero tanto la gamma delle possibilità anche su un corpo maschile, perché appunto sinceramente il capezzolo, seno, pensavo al femminile e in realtà ci sono delle richieste anche per delle modifiche sul corpo maschile da quel lato lì. Sì, perché quello che succede veramente, noi uomini abbiamo secondo me questa grande capacità di tenerci un po' dentro le cose, non so come dire, parliamo delle nostre mogli, ma di nuovo quando c'è un problema le donne lo raccontano, lo prendono partecipi, l'uomo lo interiorizza molto, lo interiorizza e poi a tal punto che a un certo punto questa cosa crea dei grandi condizionamenti come idea. e quindi in realtà vengono i ragazzi o degli adulti con delle richieste che hanno un background anni e anni e anni, poi alcune volte arriva questo signore qua che magari ha qualche anno in più per un discorso poi di tipo economico, nel senso il mio problema ce l'ho fin da ragazzo, mi ha fatto soffrire tantissimo, però prima non c'avevo i soldi, poi perché stavano sempre il discorso prezzo, poi in realtà non l'hanno mai chiesto, perché magari ci avrebbero fatto lo stesso, però il concetto è, alcune dice, adesso io sono nell'età adulta, posso gestire le mie finanze, vado a farmi questo tipo di intervento. L'apoteosi di questa cosa è stata negli ultimi tempi, molti pazienti che vengono a fare interventi di questo genere dopo la pensione, sono fantastici. Io ne ho parecchi e veramente li ricordo tutti con affetto perché, come dire, dicono adesso ho tempo, ho finito di lavorare, penso a me, per le donne è il mommy makeover, nel senso che c'è questa parola americana che dice ho fatto il figlio, ho fatto tutto, adesso penso a me stessa. Per gli uomini c'è stata questa cosa che le persone vanno in pensione e dicono, va bene, adesso penso a me, sono venute persone che hanno fatto l'orecchia, altre che hanno fatto la peforoplastica, altre che hanno fatto questo intervento di girecomastia, cioè, come dire, l'uomo tutte le volte nelle storie viene fuori che però è un retaggio antico, non è un problema di dopo la gravidanza, mi sono venute le tette un pochettino, il seno un pochettino che scende e quindi lo vedo a mettere a posto. Invece in questo caso è proprio una cosa, ce l'ho da tanto, devo trovare il momento giusto, che la pensione rappresenta quel momento che anche per l'uomo per sé, che prima c'aveva, gravava se doveva tenere sulla famiglia, non so come dire, c'è un lato che io trovo anche molto affascinante nella chirurgia dell'uomo, che è quello appunto di essere in una funzione protettiva anche nei confronti di tutto il suo nucleo familiare, quindi di occuparsi di questa cosa quando o se lo può permettere, o c'è tempo, o cose di questo genere. Detto questo, lunedì operiamo un ragazzo giovane all'orecchio, voglio dire, è ovvio che ci sono tante realtà. Certo, ci sono tante situazioni, però insomma anche dopo la pensione, quindi c'era il sottoscritto e il regista che ci stavano pensando, insomma, tra una quarantina d'anni, prima che andiamo in pensione, penseremo a fare qualcosa. Però insomma, in effetti il tempo libero è il pensare a delle nuove situazioni, insomma il non lavorare porta magari a soffermarsi su situazioni nuove, che so, l'aspetto fisico, oppure il nuovo rapportarsi con le persone, quindi è chiaro che... Però nonostante il fatto che io faccia professionista da anni, tutte le volte effettivamente mi colpisce la distanza tra la gente e il chirurgo plastico, nel senso che ci penso 40 anni per fare questo tipo di intervento chirurgico, nel senso che poi tutti dicono, l'avessi fatto prima, perché poi gli interventi sono molto spesso molto banali, non è che sono interventi così invasivi adesso attualmente. A tal proposito, su questo discorso dell'informazione, divago un secondo perché ho proprio fatto sui social, la regia so che la becca subito questa cosa, ho ritrovato, visto che si parlava in questo momento, si parla tanto di informazione, ho ritrovato un mio articolo di dieci anni fa sulla Gazzetta del Piemonte, che è adesso il giornale che è scomparso, e c'era questo articolo proprio di maggio 2012, dove già dicevo io che serviva più informazione sulla chirurgia plastica, no? E quindi il bello di questa cosa è che a distanza di dieci anni siamo ancora qua a lavorare sull'informazione, ma perché alle spalle c'è una richiesta, cioè non è che, come dire, cerchiamo di fermare la gente per stare e dire che devi fare delle cose, ma c'è la gente che aspetta 40 anni per fare un intervento chirurgico, no? E quindi, come dire, l'informazione è quella che aiuta questi pazienti a, come dire, prendere la voglia di avvicinarsi a questo mondo che è sempre più sicuro, che ha da sempre meno problemi, ecco, questo è un pochettino il concetto. Allora, abbiamo una telefonata, dottor Bollero, poi volevo capire dalla regia se la regia è riuscito a trovare l'articolo o no? Era lì che cercava, perché lui sta cercando disperatamente e io volevo già fargli cercare un'altra cosa così lo stroncavamo sul nascere. Allora, andiamo con la telefonata, scherziamo chiaramente con il nostro regista. Pronto? No, allora, ricordiamo sempre, azzerate il volume del televisore e poi entrate a far parte di questa nostra diretta come in una piazza, come una piazza, seppur virtuale, ma è una piazza, dunque attendete un attimo, perché sentirete sicuramente dalla cornetta del telefono parlare o il sottoscritto o il dottore, dunque attendete un attimo e vi sarà poi data la parola. La regia forse ha trovato qualcosa intanto, eccolo qua, mi sai che è riuscita nel suo intento, sarà questo, sulla chirurgia plastica serve più informazione, non leggo la data da qui, ma è sì, è il 2012. Sì, è proprio quello. E quindi già dicevo che sarebbe più informazione e io su questo ci credo, perché ancora oggi, tutte le volte, tutti i giorni, la gente si incuriosisce, viene, ti fa delle domande e tu capisci che il lavoro è ancora molto lungo prima di togliere il fatto che, come abbiamo già detto, le protesi si scoppiano in un aereo, se fai la chirurgia rischi di rimanere mutilato e cose di questo genere, no? O che la chirurgia è così costosa, certo è costosa, però va, come dire, inserita come il tuo unico intervento che ti dà fastidio, vai a dare un miglioramento di quella zona che te lo sei portata via per tanto tempo, cioè che sei portato dietro per tanto tempo, quindi è un po' questo. Però dopo dieci anni siamo ancora qua a fare informazione e quello che è stato adesso è ancora lungo. Sì, ecco, più che altro, sono passati dieci anni e siamo ancora qua a fare informazione, ma mi chiedevo perché sono cambiate le richieste da parte dei pazienti o perché comunque anche la chirurgia plastica si è evoluta al punto che bisogna continuare a informare sugli aggiornamenti e quant'altro. No, io sui aggiornamenti direi che sono delle finezze, no? Nel senso che la finezza è nelle parole, no? Io faccio la lipolaser, allora da casa uno pensa che con il laser non ne tocco più, cioè che faccio una roba esterna, invece è lo stesso intervento con delle piccole modifiche tecniche che migliorano l'intervento, però la liposuzione, la blefaroplastica, la mastoplastica, sono interventi che hanno subito dei piccoli cambiamenti tecnici, ma da punto di vista generale l'intervento è sempre lo stesso. Di contraltare quello che succede è che c'è sempre maggiore informazione, perché ancora adesso quando abbiamo iniziato diceva, ma gli uomini, no? E gli uomini saranno comunque un gruppo di nostri pazienti sempre più presente, perché comunque anche noi, come diceva mio amico, tutte le volte a mio amico c'è questo mio collega che diceva, quando io vedevo, cinquantenne, no? Da ragazzo, pensavo sempre che forse avesse già quasi finito la vita, lui la dice un po' diversa, ancora più pesante. Essendo che io adesso ci sono arrivato a questa età qua, no? Come dire, un po' di forza fisica me la sento ancora e quindi non mi sento proprio ancora già over, no? E questa cosa ti porta a tenerti meglio, di fare sport, adesso ieri c'era un mio paziente che mi parlava che è arrivato, si è fatto tutti i tatuaggi a 50 anni, lui spunto di tatuaggio ogni volta che viene a fare, lui viene a fare il botulino, va a fare il campionato di calcetto over 50, che io avrei paura di spaccarmi tutto a farlo anche se mi piace giocare a pallone, non lo farei più, però da punto di vista tecnico succede che quindi anche l'uomo, no? Come idea si inizia a valorizzarsi nel tempo, no? E quindi è un po' questo che è quello che sta succedendo. Quindi anche per l'uomo, anzi forse addirittura, ma intanto forse abbiamo una telefonata, allora proviamo a prendere la linea. Pronto? Pronto. Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, buongiorno. Come si chiama signora? Mi chiamo Mafalda. Mafalda, allora Mafalda. Mafalda. Per fortuna che non sono a casa. Mamma mia, ma non mi ha mai nessuno telefona. Mafalda, lei è la prima, ci racconti, cosa ci vuole dire? Per fortuna che non sono a casa. È troppo simpatica. Allora, ha qualche curiosità per il dottore? Grazie, grazie, la saluto comunque, ho tanti tanti auguri. Allora, ringraziamo la nostra telespettatrice, ha detto, poverini, non li chiama nessuno, ci penso io, beh, molto gentile il gesto della nostra telespettatrice. Senta, dottore, intanto forse abbiamo invece i messaggi che adesso poi chiederemo alla regia. Peraltro la regia prima stava facendo vedere, adesso è impegnata in altro, però magari dopo ce la trova la foto di Tom Cruise alla corsetta Cannes che è venuto per presentare il film e si faceva l'affronto con gli inizi della sua carriera d'attore e sembra che il tempo si sia fermato. Lì, evidentemente, più che la bellezza del personaggio, probabilmente c'è qualche finezza da parte di qualche suo collega, perché insomma, eccolo qui, adesso, anzi, se vogliamo è persino migliorato, diciamo. Quello che dico io di questa vicenda è questo, che molta più gente che uno ha intorno fa comunque qualche trattamentino, anche i maschietti, un po' di botulino, un po' di fillerino, che per riempire le rughe, quindi in realtà è diventata una prassi comune, soprattutto per le persone che comunque fanno comunicazione, ma la comunicazione non è soltanto la TV, ma la comunicazione è il lavoro di tutti i giorni, delle persone che fanno il venditore. Torniamo a un discorso che avevo detto nella scorsa puntata, e questa è una storia vecchia, gli americani nel primo del Novecento, chi faceva il venditore porta a porta, sono stati i primi a occuparsi di chirurgia plastica, perché con un aspetto migliore vendevano di più, come idea, quindi in realtà è un discorso con un aspetto migliore, se ti aprono di più le porte, ma è anche vero che ti senti più forte. Allora abbiamo una telefonata, sentiamo chi in linea. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Giorgio dalla provincia di Torino. Giorgio, buongiorno, faccia la domanda. Volevo sapere dal dottore, le borse sotto gli occhi, no? Ho 70 anni, le borse sotto gli occhi, come si possono correggere? Solo con un intervento chirurgico oppure chi sono altri ispedienti? Ecco, io ringrazio molto Giorgio appunto che fa questa domanda, perché obiettivamente Giorgio 70 anni dice che si capisce che non ha tanta voglia di farsi l'intervento chirurgico, se c'è una possibilità alternativa. Il discorso per Giorgio è che non ci sono alternative alla rimozione delle borse, perché dobbiamo sapere come sono fatte le borse. Quindi le borse, quindi questa zona qua, facciamo un esercizio da casa, che già devo fare, col dito indice, uno va a cercare un bordo dell'osso. Se trovate un bordo dell'osso e riuscite ad entrare un po' dentro, quello è il bordo dell'orbita, ok? Quindi dell'orbita, pensate al teschio col vuoto. In questo vuoto del teschio, dove c'è praticamente questo grande vuoto rispetto all'occhio, c'è dentro i muscoli che fanno muovere l'occhio, quindi la palla dell'occhio, e poi tutto del tessuto adiposo, del grasso, anche lì il grasso c'è un po' dappertutto. Questo grasso nel corso degli anni, alcuni pazienti che sono un po' lassi fin da giovani, esce fuori come nella fotografia che ha trovato la regina. Lì si vedeva parecchio bene. E il compito nostro è quello di andare a ricostruire quella zona, quindi noi facciamo un tagliettino sul bordo cigliare, bellissimo caso anche questo che sta per vedere. Eccolo qua. Un tagliettino sul bordo cigliare, dove c'è le ciglia, ok? Come la cicatrice che non si vede. Le ciglia, ah qua sotto? Proprio sul bordo, sopra, sopra, sul palpello inferiore, sul bordo dove c'è le cigliatine. Sì. Da lì scendiamo sotto, andiamo a togliere quel grassettino in più e poi togliamo una striscina di pelle e richiudiamo. Se vedete c'è quella curvatura della palpebra, no? Io sono cannavesano di origine e dico sempre che è come la diga di Ceresole, no? Perché da ragazzo andavo a Ceresole e c'era l'acqua che spingeva e la diga che teneva quella curva, come tutte le dighe che tengono quella curva. Lo stesso vale per la palpebra perché la palpebra ha quella curvatura. Quindi dobbiamo andare a ricreare quella curvatura giusta con il grasso che spingerà, ma in quel caso ha spinto troppo, quindi ha spostato un pochettino la diga. Quindi non c'è età per fare l'intervento chirurgico, questo voglio dire, no? Nel senso che se Giorgio è arrivato a 70 anni e decide che comunque questa cosa è da fastidio, la può fare benissimo, no? Nel senso che non c'è, perché ci sono state due fotografie di una paziente giovane e una paziente meno giovane e questo qui sono due possibilità. Però in realtà anche con la medicina estetica qualcuno cerca di dire che ci sono alternative, ma non sono alternative valide per ottenere questi risultati, che sono ringiovanenti in una maniera folle e che togliono… L'intervento avviene in anestesia totale oppure locale? Perfetto, l'altra domanda è l'anestesia è locale, però quello che succede, essendo che l'80% dei nostri interventi sono in anestesia locale oramai, no? Cerchiamo di dare conforto al paziente, oggi ho visto stamattina due signori che devono fare la blefaroplastica con me, molto spaventate, no? Perché tutti sono molto spaventati. In realtà è un intervento solo sotto che dura un'oretta e quindi questo retta, uno che sta lì, noi che giriamo intorno all'occhietto magari si stressa un po'. Allora l'antistress è quella cosa che si chiama sedazione, che è una cosa oramai super aperta, devo togliere il dente difficile, mi fa una sedazione, mi è uscita la spalla, faccio la sedazione, devo fare la gastoscopia, faccio la sedazione, quindi è un tipo di anestesia che fa dimenticare al paziente il periodo, toglie il dolore e dà rilassatezza, no? L'idea è che quando chiudiamo i nostri farmaci il paziente si sveglia subito, quindi l'intervento è ambulatoriale, inteso che si fa in sala operatoria, ma il paziente se ne va a casa senza stanza, no? Con un cerottino, occhio aperto e cose di questo genere. Però va a casa sicuramente, non informa, non potrà guidare lui, no? Un po' ubriachetto. Però dal punto di vista tecnico avrà vissuto molto bene questo tipo di chirurgia, che non è una... E si fa in entrambi gli occhi in una volta sola? Certo, certo, certo. L'idea è di dare la soluzione in una volta sola. in questo momento che il paziente arriva da noi, come dicevamo prima, no? Il paziente arriva da noi e quando arriva da noi, come dire, vuole già avere delle soluzioni, no? Allora si cerca di dare la soluzione migliore, con il tempo di recupero migliore, e quindi una volta si faceva così, facevi prima un occhio, poi facevi l'altro, facevi queste cose così. Invece adesso bisogna andare direttamente. Tutto e subito. Zero dolore, cinque... No, questo... Zero dolore. Questo lei dice così perché dice, eh, tu non l'hai mai fatto. Non lo so. Peccato subito lo scettico qua di fianco a me pure. Allora, questa roba del dolore, noi abbiamo fatto una scheda, tutti i pazienti che operiamo, gli chiediamo quanto male fa il loro intervento. Questo è stato, faccio da tantissimi anni, e incredibilmente due interventi hanno zero dolore, che sono la blefaroplastica, quindi intervento agli occhi, e il naso, che tutti pensano che faccia malissimo, rinoplastica, zero dolore. E il tempo di recupero invece è cinque, dieci giorni, perché cinque, dieci giorni il paziente avrà zero dolore, starà bene, ma non potrà andare tanto in giro, che è la discussione di stamattina con la signora, che diceva, ma io però dopo tre giorni posso andare a fare la spesa. Quel fuoriuso sociale. Allora, intanto Giorgio c'è ancora al telefono. Grazie, grazie. Tutto a posto? Tutto a posto, credo. Grazie mille a lei. Allora, ringraziamo il nostro telespettatore, molto preciso, preparato sulle domande. Domande perfette. Insomma, è probabilmente una persona che già nell'ottica di, insomma, credo che uno che dà un po' che rimugina su queste domande. Allora, alla famosa visita Giorgio ti dirà che sono trent'anni che, no, che piano piano ho voglia di togliere le porte. Cioè, è un po' questa, vedi quello che viene fuori, cioè che la gente se lo tiene, soprattutto i maschietti ce lo teniamo dentro, no? Questa cosa, boh, ma anche per paura della chirurgia, ci può anche stare questo, non è che... Telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Niente, messaggio. Allora, eccolo qua. Buongiorno dottore, mia figlia di 38 anni, 1,70 di altezza, 60 kg, ha sempre nascosto le ginocchia perché esteticamente non belle. Volevo sapere se con la chirurgia può risolvere il problema. Grazie, Assunta. Di nuovo, un problema di una zona piccolissima che per questa ragazza diventa una cosa importantissima, no? E quindi quello che succede è che, in questo caso molto specifico, bisognerebbe vedere la ragazza. In generale, qua possiamo avere anche delle possibilità non chirurgiche perché ormai ci sono dei trattamenti poco invasivi come la carbossiterapia che possono migliorare questa zona. Se invece c'è tanto grasso, accumulo di poso, allora in questo caso una piccola riposizione, magari con laser, che non è una scorciatoia ma è una cosa in più, può dare degli ottimi risultati. E il bello di questa cosa è che se questa ragazza venisse a fare poi l'intervento da me, da un altro chirurgo, per la carità, se riusciamo a capirci, al controllo arriva con la minigonna, no? Perché se finalmente è tolta questa cosa, cioè è questa la forza di tanti nostri interventi, il cambiamento che vediamo poi psicologico e fisico. Dovrebbe esserci una telefonata, allora proviamo a sentire se c'è qualcuno. Pronto? Pronto? Mi pare che non... C'è qualcuno ma non... Pronto? Non si palesa, allora noi proseguiamo. Dunque... Vi togliamo le ginocchia, ecco, questo per esempio... Cosa viene fatto più a... Allora, in questo caso, e questo è un altro pezzo carino da raccontare, il chirurgo plastico disegna, no? Quindi questi disegni sono i nostri... Come dire, io ho sempre le dita tutte blu, dei pennarelli, e questa roba qua è proprio un classico nostro, perché noi disegniamo tutto questo intervento che abbiamo già in testa, no? Molte cose si sposano anche nelle... Non so, ci sono delle tecniche, no? Che ti insegnano che tu devi ripetere quello che farai nella tua testa, no? Non so se vi ricordate l'usciatore prima della gara che lo vedete, che fa tutti già i suoi movimenti, quindi ovviamente noi abbiamo già tutto in testa e tutti i vari movimenti, e in realtà quel tipo di disegno lì sarà quello che ci guiderà, poi come ultimo atto prima di entrare in saloperatoria, a quello che dobbiamo togliere. Quindi i vari circoletti che ha la paziente sono le aree che bisogna togliere. Dove? In questo caso mi serve anche per raccontarvi che siamo sempre... Quando ci sono due cose, molto spesso sono diverse, no? E questo diventa importante perché, lo facciamo sempre vedere, due seni sono diversi, due ginocchia sono diverse, due occhi sono diversi, no? Questo è molto importante farlo vedere, perché poi anche nel risultato ci possono essere mille differenze, che se il paziente ha capito che ci sono queste piccole differenze, le accetti in una maniera molto migliore. In questo caso è un disegno di liposuzione anche della parte dei polpacci, e quindi in questo caso si fanno tutti i trattamenti che possono servire per snellire la gamba. Chi sono i candidati migliori per la liposuzione? Che sia uomo che sia donna, i ragazzi giovani. Mia figlia, perfetta, perché ha una buona pelle, perché noi dobbiamo lavorare anche sul fatto che la pelle deve recuperare. Se arriva una signora che ha quel problema al ginocchio, che se lo porta avanti fino a 60 anni, è ovvio che io devo bilanciare quello che tolgo col fatto che la pelle deve recuperare. Quindi, migliori candidati per i trattamenti di asportazione, anche per i ragazzi, per quello che è la ginecomastia nei ragazzi. Funziona molto bene, perché la pelle dei ragazzi recupera, va in retrazione, come la pancia della mamma, anche se dopo che uno parto lì, poi cade per terra, recupera indietro. E quindi sono i migliori candidati. Abbiamo una telefonata, e poi mi pare anche un messaggio, lo iniziamo con la telefonata, sentiamo chi con noi. Pronto? Pronto? Adesso arrivano, ascoltano la tv, che non si dovrebbe fare. Pronto? Niente, ascoltano la tv, punto. Chissà, forse sono scettici sul fatto che siamo realmente in diretta. Saranno veramente in diretta. Ma sono in diretta, chi lo sa, siamo in diretta. Allora, messaggio. Buongiorno, dottore, le volevo chiedere, ma è normale avere la rotula un po' all'infuori? Grazie. Beh, questo è, capito, un problema, di nuovo, che per la signora o il signore, è un problema importante, che va, necessitano la diagnosi, perché ho la rotula un po' all'infuori, potrebbe essere un problema di tipo ossa, potrebbe essere un problema di tipo legamentoso, credo poco di chirurgia plastica, molto ortopedico, c'è da dire che, in realtà, i tentativi estetici di posizionamento della rotula sono abbastanza aggressivotti, perché fanno dei cerchiaggi, io poi lavorando in ospedale a CTO, questa roba qua, è una cosa che vediamo spesso, e ho visto anche delle ragazze che hanno fatto questo tipo di interventi, dove in realtà la funzionalità si deve mischiare all'estetica, cioè bisogna avere anche una spinta funzionale, perché non è soltanto estetica quella di cui si parla in questo caso. Allora, 011-06-00774, il numero per le chiamate è 348-8042-54, per sms e whatsapp, siamo quasi al termine, dottor Bollero, comunque ci ha aperto anche oggi un mondo, perché insomma, al di là della chirurgia plastica, che notoriamente, insomma, di solito si associa al mondo femminile, in realtà abbiamo visto che dalla testa ai piedi, insomma, ci sono tanti, anzi, forse addirittura di più, perché forse il problema tricologico è più prettamente maschile che non femminile, o no? Nemmeno. Né, nel senso che dal punto di vista le donne hanno molte problematiche, perché sono più attenti ai capelli, in realtà, e quindi hanno delle richieste molto forti, anche per cose che sono veramente molto banali, nel senso che si vede veramente molto poco, ma di nuovo torniamo a quel discorso dove per loro può essere un grande problema, quindi il rinforzo del capello, mi cadono tanti capelli, e cose di questo genere, anche le donne, che entrano più in un discorso che, quello che diceva lei, giusto da una parte, perché noi maschietti, perché degli ormoni, abbiamo la stempiatura, il buchino dietro, e quello si chiama alopecia androgenetica, quindi più del maschietto. Nel caso delle donne, quello che succede, un altro tipo di problema, quello più diffuso, si chiama effluvio, che cosa vuol dire? Una perdita un po' globale dei capelli, questo quando succede, gravidanze, come dire, ormoni, e cose di questo genere, allora, in questo caso, il trattamento, è un trattamento rinforzante, come idea. Allora, abbiamo un messaggio, e un patrimonio di un minuto e mezzo, così ci regoliamo, dottor Bollero, Buongiorno dottore, esiste un modo per migliorare il sottomento e il collo, dove la pelle è molto rilassata, senza intervento chirurgico, ho 73 anni, normo peso, Nadia Dacchieri. Nadia Dacchieri, con l'età, mette già, ci fa già capire che il problema è la lassità cutanea, tre possibilità, a seconda di quello che voglio ottenere, prima possibilità, nel minuto e mezzo, lifting chirurgico, questo lei non vuole la chirurgia, però è quello migliore di tutti, cioè non ci sono alternative, a basso il livello, laser in questa zona, si chiama endolift, si chiama un laser che va sotto pelle, che va a scaldare i tessuti, terza possibilità, i fili di sospensione, c'è da dire che per essere contenti, uno deve sapere che se vuole il massimo fa il lifting, e poi piano piano si scende, quindi scendendo si deve accontentare la signora Nadia, e quindi è anche un po' questo il discorso, ovviamente con costi, perché togliamo quanto costa, con prezzi diversi, però anche con risultati e soddisfazioni diverse. Certo, al di là del costo, che quello è a parte, probabilmente i gradi, il top, poi chiaramente si scende di categorie, e si fa quel che si può, sempre, chiaramente, attraverso i professionisti, noi non abbiamo molto tempo, ci sono molte notizie di cronaca, che portano a centri di persone, che si improvvisano un po', andate sempre, lo ricordiamo, da chi sa fare questo lavoro. Assolutamente, è una cosa importante, io mi stupisco, appunto, tenete, io si chiede sempre occhi aperti, io mi stupisco, perché comunque, dopo un po' uno, arrivano gente che, vanno in posto, e poi quando arrivano lì, capiscono di essere finiti, nel posto sbagliato, quindi, attenzione, allora, ringraziamo il dottor Daniele Bollero, grazie dottore, grazie mille, grazie mille, linea alla regia, noi ci vediamo domani, sempre alla stessa ora.